Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete truccata, pettinata, vestita, ghindata come nel video precedente, però oggi credo che registrerò più di un video, quindi vedrete più di un video con questa Miss, perché ho un po' di tempo, preferisco registrarvi tutto oggi perché nei prossimi giorni non avrò, diciamo, molta facilità nel registrare video, sarò un po' impegnata, quindi preferisco fare tutto oggi. Vi registrerò un po' di video sempre profumosi, spero che vi faccia piacere. Oggi in particolare vi vorrei parlare di una delle vaniglie più buone che io abbia mai sentito, un acquisto che ho fatto online al buio, su ebay per l'esattezza e vi faccio vedere subito di che cosa sto parlando. Questa è una colonia famosissima, tra l'altro, che però credo non ci sia più in commercio, quindi credo che si possa trovare soltanto online. E sto parlando di Eau de Mission, questa colonia de Le Couvent des Minimes. Allora, il packaging mi piace moltissimo perché è un packaging molto retro, mi piace veramente tanto. Questo è un formato gigantesco da 250 ml, si trova anche su Amazon, però su Amazon allo stesso prezzo offrono la 100 ml. Quindi ho preferito acquistarla su ebay, tra l'altro il venditore è proprio una profumeria italiana, e il 250 ml che ho pagato circa 28 euro. Allora, la boccetta è meravigliosa perché, a parte, guardate, il colore è stupendo, caldissimo, e mi piace molto la boccetta perché sembra una bottiglia di whisky. Quindi, è strepitosa, è bellissima. Allora, questo profumo si basa su tre accordi principali, vaniglia, benzoino e mirra. Poi ci sono anche delle note verdi nella piramide olfattiva, foglie di tè verde, la centella asiatica, ed è quella parte verde che si sviluppa subito in piramide. Quando voi lo andate a spruzzare, allora, i primi sentori che sentite, gioco di parole, sono questi sentori leggermente verdi. Si riesce a percepire benissimo questa nota verde anche del tè, quindi ha questo esordio così leggermente verde e fresco. Poi, questo profumo diventa una sorta di vaniglia liquorosa. Riesco a percepire all'interno una nota quasi, appunto, alcolica, ma alcolica proprio quasi come rum, che la rende veramente particolarissima, super efficace, almeno sulla mia pelle. Dopodiché si sviluppa questa meraviglia di unione tra, appunto, la vaniglia, il benzoino e la mirra. Quindi una vaniglia, lì per lì, molto balsamica, molto fresca, e poi però sul fondo si sprigiona questo effluvio meraviglioso, di vaniglia pura, vaniglia veramente in purezza, anche per quanto riguarda questo profumo, così come vi ho detto, del profumo alla vaniglia di erbolario, non è assolutamente una vaniglia zuccherina, non è una vaniglia troppo gourmand, non è una vaniglia stucchevole, non è una vaniglia che ricorda, diciamo, il trend del momento. È una vaniglia assolutamente in purezza, come dire, mista di accenti, mista di sfaccettature, quindi questa sfaccettatura un po' verde, fresca, in testa, poi abbiamo questa nota che io sento svilupparsi quasi liquorosa, alcolica, tipo di rum, che mi fa impazzire letteralmente, e poi proprio questo accordo, questa triade, tra la vaniglia, il benzoino e la mirra, che crea veramente un effluvio buonissimo, caldo, molto talcato sulla pelle, è una vaniglia strepitosa, è quella classica vaniglia che secondo me riesce ad accontentare il gusto di tutti, non è troppo dolce, non è troppo zuccherina, non è stucchevole, non è una vaniglia che ricorda, appunto la crema pasticcera, o quei sentori di cupcake, marshmallow, è una vaniglia meravigliosa, unisex, e poi mi piace moltissimo l'aderenza che ha sulla pelle, è una colonia che non si comporta come una colonia, ma è proprio un vero e proprio de parfum, perché sulla mia pelle proprio si aggrappa, si appiccica, ed è molto 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 persistente, crea veramente questa sensazione proprio di calore, di calore, di coccola, sicuramente è una profumazione che dà il meglio di sé durante la stagione fredda, mi riservo insomma di, come dire, utilizzarla, provarla, testarla, magari in primavera e in estate col caldo, per capire insomma come evolve, voi sapete io non stagionalizzo, quindi utilizzo tutto in tutti i momenti dell'anno, poi ci sono dei profumi che effettivamente mi rendo conto che hanno una resa migliore, magari a determinate temperature, e piuttosto che magari ad altre temperature, però insomma tutto sta nel gusto, nel testarli, nel rendersi conto appunto utilizzandoli. Quindi io l'ho preso su ebay, vi lascio eventualmente giù nell'info box il link, se magari ecco siete spinti dalla curiosità, queste profumazioni io prima le vedevo da Tigotà, a Pordenone, loro avevano questa linea, poi io ultimamente li avevo chiamati, però mi hanno detto che non la tengono più, per cui mi sono precipitata a fare questo acquisto online, dopo aver visto delle recensioni su canali stranieri, che ne parlavano come della vaniglia migliore del mondo, devo dire che io confermo assolutamente, tutte le mie aspettative non sono state disattese, è una vaniglia strepitosa, veramente buonissima, e quindi strastraconsigliato. Volevo condividere con voi questo entusiasmo nei confronti di questo profumo, che utilizzo da poco, perché come vedete l'ho appena acquistato, però l'impatto è stato assolutamente positivo e quindi avevo voglia assolutamente di condividere con voi. Dunque io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato in qualche modo utile, vi mando come sempre tanti baci, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!